Salve amici del Centrometro Italiano, weekend che inizia con tempo instabile e clima fresco per l'Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 5 agosto. Piogge e acquazioni sparsi al mattino possibili sul nord-est e regioni del centro e localmente su Puglia e Calabria e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile con fenomeni soprattutto sul nord-est, zone interne del centro e settori adriatici. In serata e nottata tempo in miglioramento con precipitazioni in graduale esaurimento ovunque in ampie schiarite in arrivo. Temperature minime e massime in decisa diminuzione su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.